La Polizia incontra gli studenti delle terze medie dell'Istituto Jaracà. Nella mattinata di ieri, agente dell'Ufficio per la Comunicazione della Questura di Siracusa, nell'ambito dell'ormai noto progetto di legalità realizzato in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Provinciale di Siracusa, hanno incontrato gli studenti delle terze medie dell'Istituto Jaracà, diretto dalla Preside Lucia Zolina, nel plesso di Via Sbesta. Durante il loro intervento i poliziotti hanno trattato i temi della legalità e del rispetto delle regole legati alla giusta e corretta comunicazione tramite i social, le insidie della rete internet e tradizionale, temi relativi al bullismo e alla storia della lotta alla criminalità organizzata e alle mafie in Sicilia. L'apprezzamento dell'iniziativa è stato sottolineato dalla legalità del presso di Via Sbesta, professoressa Romeo, che ha invitato la Polizia ad effettuare altri momenti formativi con i ragazzi del suo istituto.